I platini più lunghi da ottenere, Crypt of the Necrodancer. Crypt of the Necrodancer è un indie game del 2015 a tema roguelike musicale, che di base propone un gameplay tecnicamente infinito. Il gioco ha una difficoltà altissima nell'essere completato al 100%, la stima per il raggiungimento del platino è di circa 900 ore, direi un bel po' di tempo eh? Se vuoi sapere altro di videogiochi, dillo nei commenti.